Allora ragazzi, guardate veramente, noi non sapevamo, l'avete sentito dallo stupore sincero, naturale, normale, perché ma che ce frega a noi le dive fregnacce a voi, che ce frega a noi, abbiamo detto, no, ma veramente conduceva Simona, ieri quando io ho letto la partita del cuore, mi è venuta una risata perché mi sembra una cosa antica sta partita del cuore, televisivamente parlando, e allora ho detto ma chi se la guarda, e Giuseppe pure, eh sì, effettivamente è un po' stufato, cioè è questo il punto, non è Simona, buonaventura, tanto che ho detto ma povera Simona gli danno ste baracche però non è, non mi sembra giusto, ma la partita del cuore, metteteci Diaco, esatto, è della stessa epoca, provate lui, fate questo esperimento, vedete che cosa succede, poi se volete proprio usare, metteteci Amadeus, oppure metteteci Carlo Conti, vedete che cosa succede, secondo me floppano pure loro, Ma Diaco, però secondo me è boom